Ti faccio una domanda specifica. Nel settore della moda, dove c'è una competizione pazzesca, voi arrivate nel 2015 dal nulla, tra virgolette, nel senso che Dungeon non se lo conosceva nessuno, Daniele e Giovanni, e aprite quanti negozi in tre anni? 100, a marzo saranno 126. Il segreto è difficile, ma effettivamente per noi è abbastanza facile, nel senso che intanto non solo un settore difficile, ma un settore dove vedi 10.000 negozi chiusi solo quest'anno e gli altri anni non è stato meglio. Diciamo che effettivamente noi abbiamo individuato una nicchia di mercato dove effettivamente abbiamo capito che c'era vera necessità di dare un prodotto piacevole da vedere, sistemato in un'ambientazione, quindi in una scatola accogliente con personale di grande professionalità e di un prezzo aggressivo. Diciamo che tutto quello che il nostro personale viene addestrato da un'azienda, tutti dal primo all'ultimo fanno dei corsi di formazione, dalla vendita a tutti quelli che sono i capi aria, quindi i vari KPI, ai misteri clients che vanno e controllano, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che abbiamo creato a noi un affare, a noi non ci interessava fare un affare, a noi ci interessava fare un'azienda. Le eventuali sfide, diciamo, francamente valutati i competitors nazionali non le abbiamo trovate veramente di grande timore. Pertanto con un'idea chiara abbiamo iniziato e devo dire che con un po' di fortuna, un po' di aiuto del Signore, un pizzico della nostra esperienza che poi ha 40 anni, sono 40 anni, diciamo che siamo riusciti nel nostro intento. Quindi la nostra formula è sicuramente incentivare moltissimo il nostro personale perché i nostri collaboratori sono tutti molto motivati, tutti molto coinvolti. Qui non esiste una figura che è superiore all'altra, non è il biglietto da visita che comanda da noi, è proprio un coinvolgimento dei vari settori e quindi anche l'ultimo arrivato, magari proprio lui che dice a glacialmente un qualcosa dove chi è dentro il rotor non vede, no? Quindi diamo spazio assolutamente a quello che sono le idee o le proposte di chi è coinvolto dall'inizio alla fine, sempre, tutti i giorni, ai nostri collaboratori. E non è poco. Diciamo che personalmente, nonostante posso dire che ormai sono diventato anche un po' anziano in questo lavoro, ma devo dire che senza il supporto dei miei collaboratori io non avrei potuto fare nulla.